Per cui il pacifista combatte. Un cannone atomico costa un milione di tonnellate di grano, una bomba al neutrone tre milioni di tonnellate di carne, per un caro armato in più la gente affamata a ventimila tonnellate in meno di dignità. La pace si deve sempre inchinare ai guerrafondai, che camminano sul fuoco senza bruciarsi. Noi ci ribelliamo perché nella pace tutti possono entrare senza pagare. Per la pace ognuno può essere te, lui o me. Nella pace siamo tutto ciò che possiamo. La pace è tenace nella nostra coscienza. Ne sentiamo il bisogno in ogni sostanza sociale. Commento. Se raggiungiamo la nostra pace interiore nel silenzio di noi stessi, prepariamo la pace per cui il pacifista combatte.